Allora, siamo con Roberto, sviluppatore di Erlang, rappresentante di Erlang in Italia. Allora, questo linguaggio è molto utilizzato ma poco conosciuto. Perché e qual è la sua storia? Beh, Erlang nasce intorno a 15 anni fa in ambiente Ericsson, quindi inizialmente un linguaggio proprietario, non distribuito al di fuori di Ericsson, è stato poi reso open source negli anni a seguire. Nel 2006 ha iniziato ad avere del supporto per il multicore, motivo per il quale ha suscitato un po' di interesse da parte del pubblico. Uno dei motivi per cui probabilmente non è ben noto è che è un linguaggio fondamentalmente lato server. Anche se ci si possono fare tante belle cose, non è uno di quei linguaggi che l'utente finale va poi a vedere. Però grosse applicazioni. La prima che mi viene in mente è Whatsapp, che molti di voi penso usino. Chiaramente usa Erlang nel suo back-end. Ultimamente a Whatsapp hanno annunciato il raggiungimento di un certo numero di milioni di messaggi inviati al giorno e questo sicuramente non sarebbe stato possibile senza un linguaggio come Erlang, lato server. Quali sono quindi le caratteristiche principali e benefici che un programmatore o un'azienda può avere utilizzando questo linguaggio? Sicuramente la scalabilità. Quando abbiamo bisogno di applicazioni che scalino, quindi applicazioni di cui non conosciamo il bacino di utenza a priori e arriviamo ad avere milioni di richieste simultanee, sicuramente Erlang è una delle tecnologie a cui consiglio di dare un'occhiata. Non è l'unica, per carità. Casi in cui abbiamo milioni, abbiamo bisogno di alta concorrenza, robustezza, fault tolerance. Questi sono tutti scenari in cui Erlang sicuramente è una buona scelta. Roberto, tu lavori spesso in Inghilterra, a Londra. Questa manifestazione CodeMotion è dedicata alla programmazione. Quali sono le differenze che vedi da italiano che lavora all'estero? C'è differenza ancora nel mondo italiano e quello straniero? Riguardo a Erlang? No, riguardo alla programmazione in generale, l'approccio alla programmazione. Beh, probabilmente l'impressione mia è che in paesi come il Regno Unito o la Svezia, soprattutto a livello accademico, nuove tecnologie vengano accettate più rapidamente. È più difficile che un linguaggio come Erlang, che è un linguaggio comunque funzionale, venga presentato in un'università italiana. Sia in Inghilterra che in Svezia teniamo corsi all'università dove gli studenti imparano la programmazione funzionale e quindi possono fare un'analisi comparativa con quella, ad esempio, sequenziale o ad oggetti, che è ben più diffusa in Italia. Ritengo che è appunto dare la possibilità, soprattutto agli studenti, di poter decidere il giusto strumento per il lavoro da fare. Credo sia essenziale appunto poter conoscere la programmazione funzionale e linguaggi come Erlang, Go o Scala o Haskell e per poterli comparare a Java, C Sharp, Objective-C e quant'altro. Ti ringrazio. Grazie. Grazie.